Numero 35, ASD Danziamo, piccolo gruppo danza moderna, rapide, scuola ASD Danziamo, coreografer Roberta Cassarino Forse era un altro locale, sono un po' strano, ti amo solo quando veniamo Quindi perché mi sputtani in giro, dimmi cazzo, ne sai di me Ora vado a divertirmi, è una cosa comune, dormire con altre persone Forse non ci sarò, il venerdì all'ora e tu sei che a meno risponderò Mi ami dimmi di no, tradire e far ridere, ti prego non dire no Ora che non ho niente, mi difenderò dalla fiducia che non avevo e non ho Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride Che scalerò, 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 come non lo so Dimmi te perché mi hai fatto scendere Da una Mercedes, prenderò un treno perché ne so Questa notte mi perdonerò Nelle tue rapide non cadrò Cosa farai se alle spalle lascerai Milano, chi prenderà la stanza bianca al primo piano Non ci pensare, il ricordo è il peggio dell'Ade Ripenso a quei pomeriggi al lago, fumando e cantando piano Mi chiedo se ritornerai, nonostante i miei mille guai Mi chiedo se ritornerai, con il solito paio di Nike Dimmi cosa c'è, le vedo scendere, sono rapide, chiuse nell'iride Che scalerò, 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 scalerò Come non lo so Dimmi te perché mi hai fatto scendere Da una Mercedes, prenderò un treno perché ne so Questa notte mi perdonerò Nelle tue rapide non cadrò Numero 36, Danzatelier, gruppo Senior Moderno Consequences Scuola, Danzatelier, coreographer Erika Masetto Scuola, Danzatelier, coreographer Erika Masetto Giuseppe, colorful Erika Masetto iatheange, coreographer Erika Masetto Scuola, Danzatelier, coreographer Erika Masetto Grazie a tutti Non passo Giuseppe,は! Perfe Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.